Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926 Ragazzi, non doveva uscire nessun video oggi perché ho detto Vabbè, lunedì me la prendo con calma, non faccio uscire nessun video E poi è uscita la notizia che ti svolta la giornata Perché, guaiù, Paolo Di Bala ha deciso di non rinnovare il contratto con la Juventus Pam 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 Oh, come sto godendo Lo posso dire tranquillamente, sto godendo ragazzi Perché la Juventus, va bene, se lo merita Sono veramente contento perché se lo merita Dopo tutte quelle volte che è andato a prendere i giocatori a parametro zero I giocatori dagli altri squadri Ora Di Bala va via a parametro zero E questa è una sensazione bellissima Bellissima, voglio Una sensazione veramente, veramente bella Perché perdono, a parte perdono il numero 10 Ma perdono il giocatore che secondo me avrebbe fatto la differenza in queste ultime 8 di campionato Ora Di Bala è un professionista Anche se molti tifosi giuventini ora lo inizieranno a linciare sui social e su tutto Perché non ha voluto rinnovare Ragazzi, Di Bala è sempre stato coerente con quello che ha detto Voglio 10 milioni a stagione, non me li dai, piglio e vado via Non mi vuoi vendere, vado via a parametro zero Così è stato, è stato veramente di parola il buon Paolo Di Bala ragazzi E ora qui c'è da parlare di calcio mercato perché Dove andrà ora Paolo Di Bala? Alcuni dicono l'Inter, alcuni dicono andrà in Spagna, alcuni dicono andrà in Inghilterra Addirittura in Germania, il Paris Saint Germain Ora c'è da vedere questa cosa L'interesse dell'Inter è molto forte Ubeppe Marotta qui secondo me Ha messo già le basi per un grande colpo Quello che è Paolo Di Bala ragazzi Poi dobbiamo vedere se andrà all'Inter Se l'Inter gli darà questi soldi La beffa più clamorosa secondo me Lo sapete qual è? Che qualora Di Bala, va bene Dovesse trovare un accordo economico con l'Inter E se trova lo stesso accordo a livello economico che gli offriva la Juventus Sarebbe veramente clamorosa questa cosa La Juventus dicevano Gli volevano offrire un contratto da 7 più 2 di bonus Addirittura a meno di quello che percepisce ora Però con il bonus andava a prendere di più di quello che prendeva ora Ha sempre detto di no, è stato coerente Lo ribadisco, è stato coerente il buon Paolo ragazzi Quindi cari amici juventini Per una volta siete voi a perdere un top player Perché stiamo parlando di top player E dopo l'arrivo del grandissimo, dell'illustre, dell'illuminare Massimiliano Allegri La Juventus perde in una sessione di campionato Perché stiamo parlando di campionato Il campionato deve ancora finire Nel corso di un anno, di una stagione di Massimiliano Allegri perde Cristiano Ronaldo E Paolo Di Bala Ora loro diranno Ah ma noi dobbiamo rifondare questa Juventus Sì va bene Rifonderai questa Juventus Fino a che dai? 8 milioni a A cosa? A Artur 7 milioni a Rabiot Cosa volete rifondare? Cosa volete rifondare? Avete trovato un accordo economico su Rudiger Quasi 9 milioni a stagione Cioè siete seri? E poi non ne date 10 a Di Bala Ma siete seri? Facciamo i seri cari Juventini Perché Waiu È una cosa che secondo me Paolo Di Bala vi ha fatto vincere tutto Giustamente non vi ha portato una Champions League Ma Paolo Di Bala Secondo me è quello che doveva prendere di più nella squadra Non diciamoci stronzate Perché Waiu la classe di Di Bala non si discute Anzi, anzi Io apprezzo Paolo Di Bala come giocatore e come uomo Quindi caro Paolo Vuoi fare qualcosa di buono nella tua vita? Abbassati lo stipendio Arriva a prendere 6 milioni a stagione E vieni a Napoli Vieni a Napoli caro Paolo Vieni a Napoli Noi ti faremo sentire come si sono sentiti Lavezzi e Maradona Cosa che quando tu vieni a Napoli e sei argentino I tifosi napoletani ti porteranno proprio come Maradona Cioè per farvi capire Poi le prestazioni ce le hai Alcuni hanno detto Noi dobbiamo dare i soldi a questo che non ha giocato Nemmeno 20 partite di campionato Di qua e di là Allora Secondo me gli infortuni sono tutti finti Perché Waiu Qualora Di Bala avesse trovato un accordo economico con la Juventus Io vi avrei fatto vedere che Di Bala Giocava tutte le partite Tutte le partite le giocava Paolo Di Bala Tranquillamente E io sono convinto di questa cosa Poi Vuoi che è arrivato Allegri Vuoi che Allegri l'ha voluto smontare Gli ha voluto cambiare modulo Ha voluto fare questa Di Bala non si è più trovato A suo agione in questa Juventus Ragazzi è come dagli torto Passi da Pirlo Che almeno Un'idea di gioco ce l'aveva Arriva il buon Massimiliano Allegri Come già detto E stravolge la Juventus E se Ora è al quarto posto Ipotetico terzo posto Perché Io penso che Io penso possa lottare addirittura per lo scudetto Quindi Andiamoci piano a dire la Juventus Di qua la Juventus di là Stavamo dicendo Ma scusate che stavo dicendo Su Allegri mi pare Ah Caro Allegri Tu ora sei al Quarto posto Giustamente Hai vinto tutte queste partite Ma da gennaio Tu hai un giocatore sotto al culo Come Vlaovic Va bene Vlaovic Era normale che Di Bala Diceva Chi si hanno comprato Vlaovic Non ci hanno i soldi E poi vanno a spendere 90 milioni Per il calciomercato E a me non mi danno Un aumento di contratto E' normalissimo Che il buon Paolo Di Bala Si sia risentito di questa cosa Non diciamoci stronzate Perché voglio E' palese Che la Juventus Abbia voluto far fuori Di Bala Va bene E ora ne butterà fuori Anche altri diversi La Juventus Datemi retta Non il solo Di Bala Ora vi faccio vedere Come saltano tutte le teste Nella Juventus Per colpa di Massimiliano Allegri Però C'è da dire La Juventus Come società Non è caduta Nel ricatto Del giocatore Perché poi Poi giustamente Uno ti fa due conti E dice Ma tu hai fatto il ricatto Di Bala Perché se non rinnovava Va all'Inter Va di qua a zero La Juventus Non gli ha dato Quello che lui voleva E giustamente Di Bala ha detto Oh sai che c'è allora Io me ne vado via a zero Tu fai come ti pare Se non mi dai il contratto Che io voglio Io vado via a zero Quindi La Juventus Non ha abbassato la testa Non si è calata le braghe Ha detto Ciao caro Vai Vai via Tanto per quello che mi sei incostato Fra infortuni E cartellino Il ritorno Non c'è stato Però aiuto Perdere un giocatore Come Di Bala Che l'avresti potuto vendere Tranquillamente Sui 50 milioni Perché tanto vale Io penso Con infortuni è tutto Ragazzi È un danno economico Per la Juventus Perché su quei 50 milioni Avrebbe potuto prendere Un altro giocatore Stile di Bala Per affiancarlo a Vlaovic Chi ci mette a Vlaovic Vicino Morata Moiseguin Giocatori che non sono A livello della Juventus Sinceramente Comunque Detto questo Caro Paolo Se ci vuoi ripensare Vieni a Napoli E noi ti accoglieremo A braccia aperte Non succederà mai Perché tu hai quasi 10 milioni Una stagione Napoli lo sappiamo Dal prossimo anno Arriverà Col Monte in calci Massimo a 3,5 Ora dobbiamo vedere Anche noi sul calciomercato Stiamo inguaiati Detto questo Io vi ricordo Di iscrivervi al canale Di Napoli 1926 Se ancora non l'avete fatto E caro Paolo Che dobbiamo dire Mi dispiace Ma sono contento Per la Juventus Ciao a you Per la Juventus